Ciao a tutti, io sono Gianni, bentornati qui sul mio canale per questo nuovo video nel quale oggi torneremo a esplorare insieme la galassia di prodotti cinesi con uno di quei gadget che mi piacciono tanto perché sono la dimostrazione di un modo di fare innovazione che purtroppo ormai qui da noi si respira sempre meno basato su Android, il sistema operativo che pur non essendo completamente un progetto open source si presta comunque ad essere modificato per creare prodotti come questo traduttore che raggruppano, migliorando nel contempo la fruibilità alcune funzioni, in questo caso naturalmente di traduzione dando origine ad un qualcosa di completamente slegato da uno smartphone che però da quel punto di vista permette di fare le stesse cose organizzandole in modo migliore limitando le distrazioni che si sa prendendo in mano un telefono sono invece inevitabili diventando uno strumento sicuramente non indispensabile ma molto utile per chi, per hobby, studio oppure lavoro deve fare i conti con una lingua che non conosce anche perché si tratta di un dispositivo molto più potente di quello che potrebbe apparire a prima vista con tante funzionalità per alcune delle quali c'è naturalmente bisogno di una connessione ad internet infatti supporta la scansione multiriga in 55 e la traduzione vocale in 112 lingue è dotato di un ottimo display a colori da 2,98 pollici ben definito e molto luminoso integra due tipi di connessioni quella wifi a 2,4 GHz e quella bluetooth per collegare delle cuffie mentre iniziamo a vedere la confezione come sempre vi ricordo che se volete vedere altri contenuti di questo tipo potete farmelo sapere iscrivendovi al canale commentando, condividendo e mettendo un mi piace al video in modo che il maggior numero di persone possano vederlo e di questo naturalmente vi ringrazio di cuore in anticipo all'interno come avete iniziato a vedere ci sono un cartoncino per testare alcune delle funzionalità il traduttore sul quale torneremo tra un attimo il manualetto di istruzioni tradotto anche in italiano un sacchettino in cui riporlo per proteggerlo dalla polvere ed infine anche il cavo usb di tipo c per ricaricare la batteria la qualità costruttiva è molto buona infatti i materiali utilizzati sono vetro che copre completamente il pannello superiore dove c'è il display e plastica di buona qualità per tutto il resto su questo lato ci sono partendo da sinistra verso destra il pulsante di accensione spegnimento colorato in rosso e i due tasti che si occupano di gestire il microfono il come lo vedremo tra un attimo e di regolare il volume del suono emesso dallo speaker da un watt che si trova sul retro intelligentemente qui in alto sono stati inseriti due microfoni che migliorano notevolmente il riconoscimento vocale per finire con quest'altro lato dove c'è la porta usb di tipo c per ricaricare la batteria agli ioni di litio che consente un'autonomia di parecchie ore la prima configurazione è velocissima infatti dopo averlo acceso dovremo solamente scegliere la lingua per il software di gestione impostare la connessione wifi ed infine installare i due aggiornamenti del firmware anche il funzionamento è semplicissimo infatti si usa come un evidenziatore leggermente inclinato tra 90 e 75 gradi per cui premendolo sulla superficie del testo da tradurre una molla attiva sia una luce a led sia la telecamera che si occupa naturalmente di leggere il testo detto questo direi che è arrivato il momento di analizzare il software di gestione che come vi dicevo è basato su android 8.1 che ovviamente è il cuore pulsante di questo traduttore iniziando con la schermata iniziale dove oltre ai vari menu che come sempre analizzeremo singolarmente qui in alto a destra c'è anche la barra di stato con le indicazioni delle connessioni e della batteria le funzioni proprie del traduttore sono 4 a cui si aggiungono il lettore mp3 e le schede dei preferiti e delle impostazioni che è il punto da dove voglio iniziare l'analisi del software di gestione perché è proprio da qui che si gestiscono alcuni aspetti fondamentali del traduttore come la connessione wifi il volume dell'altoparlante e la velocità della pronuncia la scansione multilinea l'impugnatura destra oppure sinistra lo spegnimento automatico la connessione bluetooth la pronuncia vocale automatica del testo dopo la scansione la luminosità e l'autospegnimento del display la lingua dell'interfaccia ed infine gli aggiornamenti del firmware dopo il menu impostazioni possiamo finalmente cominciare ad analizzare le varie funzionalità iniziando ovviamente dalla prima che consente la scansione e traduzione del testo per cui dopo averla selezionata basterà semplicemente impostare cliccando qui in alto sulla rotellina dentata le due lingue di scansione e traduzione che offline al momento sono limitate al coreano al cinese, all'inglese e al giapponese e poi il funzionamento è molto semplice infatti è sufficiente passare lo scanner sopra alla riga o alle righe da tradurre le cui parole saranno poi visualizzate sul display dove potremo anche ascoltare la pronuncia in entrambe le lingue la mano di suo padre afferra la spalla di Josh come per aiutarlo a rimanere in piedi ce ne ha parlato quando siamo entrati nella tana per parlare dell'offerta di protezione dei testimoni la seconda funzione per la quale invece serve obbligatoriamente una connessione ad internet permette la traduzione vocale per cui cliccando sulla rotellina dentata si possono impostare i due linguaggi che poi si possono richiamare velocemente con i due tasti che abbiamo visto in precedenza per cui in questo caso premendo il primo potremo parlare per un tempo indefinito anche più di un minuto in italiano mentre con il secondo in inglese e poi al termine il display mostrerà sia il discorso originale che la traduzione nella lingua selezionata per la quale potremo naturalmente anche ascoltare la pronuncia 7 ottobre finalmente stamani ho avuto il permesso di alzarmi ma era possibile che un ragazzo come me potesse stare fermo su una poltrona con una coperta di lana sulle gambe ottobre 7 l'avventura del piede del diavolo e interessanti ricordi legati alla mia lunga e intima amicizia con il signor Sherlock Holmes la prossima funzione che però non ha nulla a che vedere con la traduzione permette di ascoltare musica o ancora meglio audiolibri che abbiamo importato dal pc salvandoli nella relativa cartella in formato mp3 7 ottobre finalmente stamani ho avuto il permesso di alzarmi ma era possibile che un ragazzo come me potesse stare fermo su una poltrona con una coperta di lana sulle gambe c'era da morire Poi continuando con le funzionalità c'è anche la registrazione intelligente con cui si possono salvare dei brevi memo vocali Anche la prossima funzione non ha nulla a che vedere con la traduzione anche se consente di scegliere la lingua di input che però serve solamente per migliorare la capacità di riconoscimento del testo scannerizzato che verrà salvato nella memoria interna e che poi collegando il traduttore al computer può essere trasferito su quest'ultimo e poi editato con un programma di scrittura Infine nella scheda preferiti potremo consultare le parole e le frasi che abbiamo importato in precedenza dal dizionario oppure possiamo anche aggiungerne di nuove sul momento scegliendo naturalmente e contestualmente anche le due lingue quella di scansione e quella di traduzione ho scoperto che quando una donna attraente in un cocktail bar chiede la mia occupazione scrittore ottiene un chilometraggio migliore quando tralascio l'aggettivo tecnico E allora in conclusione come vi dicevo un accessorio sicuramente non indispensabile ma comunque molto utile per imparare da zero o anche approfondire senza distrazioni una nuova lingua questo perché funziona bene con un'ottima accuratezza anche se naturalmente non perfetta al 100% e sicuramente sarebbe un bel passo in avanti l'implementazione delle lingue più comuni anche in modalità offline il che lo renderebbe usabile ovunque senza alcuna limitazione in attesa che ciò succeda se volete dare un'occhiata come al solito trovate maggiori informazioni qui sotto in descrizione dove ci sono anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e quello per iscrivervi al canale a me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione ci vediamo alla prossima ciao da Gianni grazie a tutti